Allora mister che dire una partita giocata in surplus giocata anche col cuore da parte del del Soverato almeno per il primo tempo poi sul secondo tempo qualcosa si sfibra nella squadra Sì, loro hanno fatto due gol, errori difensivi nostri e basta, al primo tempo abbiamo tenuto consapevolmente il vento a favore della squadra ospite, poi abbiamo cominciato a giocare, abbiamo preso subito il primo gol e il secondo gol non mi è rimasto altro che portare la difesa a tre e far salire a Erna nel centro campo e la squadra si è vista, ma non è possibile che dobbiamo soffrire sempre così tanto per cominciare a giocare, i ragazzi sicuramente sono demoralizzati dai punti che non vengono purtroppo, perché la squadra come voi vedete gioca, la Salatia secondo tempo non ha fatto niente, ha fatto due gol, 2-0 e quindi niente, noi continuiamo a lavorare fino alla fine e poi tireremo le somme. Manca quel trascinatore, quella punta che possa realizzare, possa fare il... Manca purtroppo, a noi ci manca l'attaccante lì davanti che ci fa salire la squadra, purtroppo noi non ce l'abbiamo e siamo costretti a lavorare sugli esterni sacrificandoci e via dicendo, comunque al di là di questo complimenti allo Saletti perché è venuto qua a fare la sua partita e ha ottenuto il risultato 2-0. Certo, quindi ogni domenica che passa diventa più triste la situazione per il soverato? Ogni domenica che passa purtroppo diventa più difficile, adesso abbiamo due partite a Mileto, dopo dopo abbiamo Catanzaro Lido, giocheremo qualche partita qua in casa cercando sempre di fare il risultato, noi ce la mettiamo sempre tutte, lavoriamo, siamo qua per questo e poi come vuole Dio insomma, siamo sfortunati pure, oggi c'era un calcio di rigore a favore nostro netto, nel primo tempo si vede il taglio di Ernan Zaza sulla fronte e quindi poi conseguenze, espulsioni del Presidente, via dicendo, diciamo che nervosisce più di più tutto il nostro organigramma perché non serve a niente prendersela con l'arbitro, siamo lì, siamo sempre in sofferenza. Mister Parentella è una partitella giocata così senza infamia e senza loda perché non si è visto un grande gioco, comunque avete portato a casa il risultato, almeno nel secondo tempo siete stati più incisivi. Sì, poi alla fine nel calcio quello che conta di più è il risultato e purtroppo non è stata, come dicevi tu, una grande partita, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo sbagliato un po' l'approccio alla gara, non abbiamo sfruttato stranamente il campo a favore di Vento, mentre poi nel secondo tempo la squadra è entrata subito con un altro Pio, è andata subito sul doppio vantaggio e poi ha gestito bene la partita. È vero che queste partite sono difficili da affrontare perché quando incontri le squadre che stanno giù magari ci può essere un po' di riconcentrazione, però fondamentalmente non abbiamo subito mai un tiro in porto, il nostro partire praticamente ha battuto solo le rimesse dal fondo, quindi devo dire che sicuramente bravi ragazzi non solo per la partita di oggi ma per la continuità dei risultati che dal giorno di ritorno questa è la sesta vittoria sulle otto partite, la sesta vittoria nelle ultime sette e quindi sicuramente è una squadra che sta maturando, che migliora giorno per giorno negli allenamenti, nelle partite io sono veramente un piacere allenarli perché meritano sicuramente queste soddisfazioni. Domenica prossima mi pare che avete in casa il Borgia e quindi un'altra partitella da prendere poi con le devute precauzioni. Assolutamente sì perché il Borgia per me è strano che non è nella zona alta della classifica perché già solo gli attaccanti mi sa che in due hanno segnato circa 40 gol, hanno dei giocatori importanti in tutti i reparti quindi sicuramente per noi quella di domenica sarà una partita come se andiamo ad affrontare una squadra di alta classifica perché io ritengo il Borgia una squadra importante e una squadra forte. È normale che noi siamo abbastanza sereni perché comunque con la vittoria di oggi credo che siamo quasi definitivamente, non dico salvi, però insomma prenderemo sicuramente ancora più vantaggio, ci avviciniamo sempre nella zona alta della classifica, credo che lo dico sempre sarà un po' difficile raggiungere perché non so nemmeno se poi si faranno i pre-off visto che quelli davanti vanno così forti, però noi giochiamo tutte le partite per vincere come facciamo sempre, sia in casa che fuori, ripeto ma poi la cosa piacevole è che questa squadra sta facendo bene veramente dentro e fuori il campo e veramente ripeto per l'ennesima volta un piacere allenare questi ragazzi.